Salve ragazzi, oggi domenica 17 settembre 2017 mentre sono in vacanza qui a Torrella Pilla in Puglia con i miei amici e la mia famiglia. Mi sono accorto che ho raggiunto i 500 iscritti e quindi sento il dovere di dovervi ringraziare anche se sono in vacanza. Vi avviso che tornerò attivo nel momento in cui tornerò a casa. Mi godo le mie vacanze ancora qualche altro giorno e ovviamente ci rivediamo sul mio canale. 500 volte grazie ragazzi. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!